Le commissioni riunite di finanze e attività produttive hanno approvato oggi un emendamento molto importante sostenuto da tutti i partiti che appoggiano il governo, PD, PDL, Udc, Fli, Popolo e Territorio, nel quale si fanno le modifiche al mercato del lavoro, quelle che aveva promesso Monti nel discorso alla Camera in occasione della fiducia sulla riforma del mercato del lavoro. Ricorderete che il Presidente ci chiese di approvare quella riforma per poterla portare in Europa al Consiglio europeo per fare sì che l'Italia avesse maggiore forza. Noi abbiamo consentito in cambio di promesse che adesso sono diventate realtà. I temi sono tre, due riguardano il mercato del lavoro, ammortizzatori sociali da una parte flessibilità in ingresso, l'altro il tema degli esodati che verrà affrontato nella spending review. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali sottolineo il fatto che rappresenta una conquista per noi importante nel tempo della crisi avere un prolungamento della mobilità per tutto il 2014 perché questo mette a riparo le aziende e i lavoratori nel caso in cui la crisi, prolungandosi, si avesse bisogno di tutele maggiori rispetto a quelle della riforma Fornero.